Come è iniziata la tua passione verso il giornalismo? Quando hai iniziato? Perché tu sei diventato pubblicista nel 2001, però avevi già iniziato prima ad appassionarti, no? Dunque, io ho cominciato subito tornato dal militare, quindi erano 97. Come tanti genitori della mia generazione, bisogna studiare, università, assolutamente. Io invece con lo studio erano due cose separate. Quindi una volta tornato dal militare ho capito che tanto era meglio lavorare. E quindi ho cominciato nel 97 a collaborare con un sito internet che si chiamava ludus.com ed era un portale di videogame online di Cagliari, che avevo conosciuto tramite un mio compagno di scuola e cominciai a scrivere recensioni per i videogame. Avevo fatto anche un accordo con un negozio qua vicino che si chiama Alex Computer, che mi dava praticamente i giochi gratis. Se facevo pubblicità al negozio ero eccessivo i giochi. Poi nel 99 sono riuscito a entrare, dal nostro tempo, che qua a Torino era una scuola di giornalismo seria. Ho imparato i primi rudimenti, avrei dovuto rimanere un paio d'anni. Poi dopo sei mesi ho conosciuto Infomix, che era un'azienda con diversi giornali, osservatori di Benasco, osservatori di Benaria, eccetera. Lì ho cominciato a fare la gavetta. Nel frattempo avevo agganciato anche Sport in Piemonte, scusami, Sprint e Sport, che penso tu conosca, che è praticamente il giornalino del calcio dilettantistico. Nel giro di sei o sette mesi da semplice redattore, sono diventato caporedattore e mi occupavo di tre o quattro gironi, girone H, girone E, eccetera. E quindi nel 99, dopo neanche due anni, ho conosciuto invece Sport in Piemonte di Giancarlo Emanuele, che era un grande giornalista del passato, della stampa, e che all'epoca formava i ragazzi, ovviamente non venivi pagato, però avevi la pubblicità sul sito, potevi andare alle conferenze stampa grazie a lui, da una cosa a tira l'altra. Poi è arrivato nel 2001 il tesserino al pubblicista, e a quel punto lì ho cominciato ad andare allo stadio e a forza di esserci tutti i giorni, non so, mettiamo che Giancaspro della situazione quel giorno lì ha l'influenza, sa che Andrea Bonino c'è perché anche se non fa niente va allo stadio ma si fa conoscere, in quel caso lì Giancaspro mi chiede, guarda, io non ci sono, mi dispiace, fammi tu la partita, metto il mio nome, ma i soldi li do a te. Una volta, due, tre, quattro, cinque, poi RTL, Mediaset, Italia 7 Gold, e da lì sono partito, però ho cominciato con i videogames, diciamo, che non mi dispiacerebbe perché all'epoca i genitori che ti dicevano eh ma giochi tutto il giorno, è lavoro, quindi è a posto. Beh sì, agli anni 90 già si iniziava. Esatto, sì sì, c'era la PlayStation, quindi c'era la PlayStation 1, che all'epoca era una rivoluzione totale, perché noi siamo passati da andare alle sale giochi, playtime, piuttosto che a Quattorino c'era playtime, che era famosissima, e siamo passati ad avere i videogame in casa, e quindi per noi è stata una rivoluzione, e ovviamente ho cercato di cogliere la palla al balzo, e mi è andato bene. Tu hai iniziato quindi con la PlayStation 1, in questo senso? Sì, ho cominciato con la PlayStation 1, sì, ho recensito i giochi della PlayStation 1, poi pian piano PlayStation 2, poi ho dovuto abbandonare, perché era diventata una droga il videogame, quindi non sono riuscito a sfondare, perché il mio sogno sarebbe stato all'inizio quello di fare il giornalista dei videogame, quindi andare, che ne so, a Milano, alle fiere mondiali dei videogame, e poi invece il calcio, che mi è sempre piaciuto, io gioco a pallone da quando ho sei anni, e quindi mazzi col calcio da una vita, è venuta bene che è arrivata l'ITL, una botta di fortuna dietro l'altra, poi per carità ci devi essere, devi creartela la fortuna, ma diciamo che se ti trovi nel posto giusto, nel momento giusto, non è male. Quindi diciamo, c'è stata una persona che ti ha dato questo stimolo anche a provarci? No, nessuno, da solo? All'inizio da solo, nel senso che avevo 15 anni, feci un provino per il Toro, per la Juve, mi prese il Toro, allora si allenava Orbassano all'epoca, poi non c'era davvero Zaccarelli come dirigenti, solo che io andando male a scuola, mio padre mi disse tu scordati il calcio, e di conseguenza piano piano negli anni successivi ho capito che era la mia seconda occasione per essere comunque nel mondo del calcio, e ho avuto la fortuna di avere un dono, non dico naturale, perché comunque guardando le partite da quando ho sei anni in televisione con mio padre, sentendo Pizzul, sentendo Ameri, tutta quella gente lì, mi è minimo naturale. Il giorno in cui mi fecero il provino a RTL, era praticamente come io e te stiamo parlando, mi chiami a RTL e dice vai, in diretta. E a quel punto lì ho fatto il provino di 40-50 secondi e è andata bene. E dal punto di vista professionale, dopo che sono entrato a RTL, Fabrizio Ferrero, che è ancora oggi un telecronista di Mediaset, è stato il mio mentore, perché mi ha dato una gigantesca mano con consigli pratici, piuttosto che capire come muoversi, e poi ci siamo un po' persi negli anni, ma sicuramente grazie a lui come mentore è lui. Invece nella vita mi è venuto questo pallino, questo trip di fare giorni sportivi. Ci provo, se nel giro di pochi anni arrivo dove voglio arrivare, cioè Mediaset, ci sono riuscito, quindi obiettivo raggiunto. Certo, ma il calcio quindi per te è stata comunque una passione viscerale sin da bambino, mi hai detto che hai iniziato già da sei anni a giocare. Io vivevo alle Vallette, che era un quartiere popolare qua di Torino, in realtà qui è Vallette Lucento, e giocando a pallone in cortile, come facevamo da bambini ai giardini, arrivò il papà di Piano William, che ha giocato nel Treviso per una vita, e mi disse, ma tu mi hai pensato di giocare a pallone? No, in realtà non mi diverto come tutti i bambini. A sette anni sono andato all'ATN, che era la squadra dei ferrovieri, e da lì ho cominciato a giocare a pallone, l'ho scoperto che mi piaceva, che ero bravo, per cui da lì, il provino del Toro è stato il pallino, la sliding doors, che un giorno mi piacerebbe aprire, per vedere se fossi andato di là, magari non arrivavo da nessuna parte. Però ho cominciato a giocare a pallone con Piano William, che poi lui ha fatto carriera, io purtroppo mi sono fermato, e da lì in poi, ancora oggi gioco a pallone a 45 anni con gli amici, il giovedì sera a 8, faccio un campionato a 9, quindi mi diverto, è sempre stata una passione grande, anche perché mio padre, sin da bambino, tutti Granata, Del Toro, in famiglia, io ovviamente Juventino, perché non potevo, come si dice a Torino, basti incontrari, per forza essere contocorrente, quindi ho deciso di diventare Juventino, ma nel senso che i faziosi li ho fatti molto volentieri dal tifoso di Juventino, ma mi è sempre piaciuto il calcio, nel senso che se la Juve perde, non sono come i miei amici Granata, che si chiudono in casa un mese e non mi parlano, perché sono Juventino, quindi sono un tifoso abbastanza blando. Ho capito, quindi diciamo, era anche un po' un simulacro della tua figura, quello che dovevi interpretare, per esempio, per Mediaset Prem, la figura del tifoso fazioso. Sì, esatto, il fatto di fazioso è stato croce delizia, nel senso che il fazioso mi ha dato la possibilità di arrivare a Mediaset, però mi ha obbligato a lasciare tutto il resto, perché Mediaset voleva giustamente l'esclusiva, RTL con cui collaboravo mi ha detto la stessa cosa, scegli noi o loro, e aver fatto il fazioso tornassi indietro magari aspetterei, nel senso che il fazioso poi, come già ci siamo detti al telefono qualche giorno fa, ti mette un timbro, per cui l'Andrea Bonino che commentava il Toro era impossibile, Andrea Bonino che commentasse il Milan era impossibile, perché era fazioso giuventino, e quindi in quello mi ha un po' castrato dal punto di vista televisivo, perché poi le telecronache non potevo più farle più di tanto, a quel punto lì, dopo due anni di fazioso, ho fatto a Milano, a Colonia Monzese, tre anni tra Champions League ed Europa League, sperando di togliermi quel marchio, e invece il marchio è rimasto, e quindi ho poi, sono poi passato alla carta stampata, alla radio, ma telecronache è difficile quando sei marchiato, però all'epoca arriva Mediaset che per me era il guru della televisione, mi dice che fai, vieni, gli rispondi no, la Juventus con Marco Girotto, ufficio stampa della Juventus dell'epoca, era Pinzolo 2006, fece il mio nome perché sapeva che ero juventino, era già 5-6 anni che abbazzicavo nel calcio, e quindi mi ha dato questa possibilità e l'ho preso al volo. E certo, ma secondo te come mai state chiedendo sempre meno questo aspetto della telecronaca? In che senso, secondo te? Del tifoso fazioso, per esempio sulle reti generaliste è meno presente questa figura. Ma non te lo so dire, nel senso che all'epoca secondo me era, non dico una moda, ma quasi, e quindi giustamente le televisioni hanno preso la palla al balzo e per fortuna che c'è stato il fazioso perché magari non sarei mai diventato telecronista di Mediaset, non te lo so dire, anche lì il sliding doors. Però credo che sia una, si sono accorti anche i grandi capi che il discorso di bollare, una persona tipo il Pelle Gatti di turno, sai che è milanista per sempre, mentre Pizzul abbiamo scoperto che era laziale o quello che è solamente sei anni fa e lui è stato andato in pensione vent'anni fa, all'epoca non si sapeva chi era tifoso di quale squadra e se non sei caressa, che ci capiva benissimo che era di una squadra anche se ma c'era delle cronache anonime, se sei professionale come lo era Pizzul da cui ho preso appunto lezione a Milano 2000 e qualcosa, appunto se sei professionale non hai bisogno di fare il tifoso, riesci ad essere comunque tifoso delle squadre italiane in generale, quindi secondo me i grandi capi e le televisioni si sono resi conto che essere fazioso tirava all'epoca perché era moda ma poi rischi di rovinare, rovinare no, ma comunque interrompere magari la carriera di una persona che può fare altro, ma parlo senza sapere nel senso che ormai è un mondo che non conosco più, mi ascolto le telecronache dei miei colleghi di Pardo eccetera eccetera ma è un mondo che non mi appartiene più purtroppo. Beh certo, almeno fino a questo momento vedremo, però sì no, ti chiedevo e invece il Pizzul docente com'è che insomma com'è il Pizzul privato? Il Pizzul privato tanta roba, nel senso che è sempre stato un pezzo di pane, io adesso non mi ricordo l'anno ma anche lì 99 ma mi ricordo che il giorno in cui andai a Milano per un corso con la Omnijob di Milano il giorno in cui cominciai a fare lezione quindi si può trovare tranquillamente la data morì Gianni Agnelli il giorno in cui cominciai proprio la prima lezione a Milano dove c'era Pizzul altri due uno era Chiarenza che è stato allenatore anche dalla Juventus e altri due professionisti di Rai che però non ricordo perché è passato troppo tempo e chiesero ovviamente la Omnijob di Milano formava telecronisti radiocronisti facendoti proprio stare in televisione per una settimana intera e ti metteva sotto pressione e c'era Pizzul come insegnante che veniva è venuto due o tre volte in una settimana gli altri due insegnanti invece c'erano sempre e quindi ebbi il piacere di lavorare con uno dei miei niti perché fino a ieri come se andassi a giocare a pallone con Cristiano Ronaldo lo vedo in televisione e Pizzul all'epoca era il caressa di oggi e quindi io sono riuscito a lavorare con lui e dopo che ho lavorato con lui ho fatto questo corso ho preso il mio patentino tra virgolette il mio attestato di telecronista radio telecronista e sono poi stato bravo a martellare a rompere le scatole alle televisioni locali curriculum andavo a citofonare e alla fine si sono resi conto che o mi avrebbero preso oppure non li avrei lasciati e quindi rischiavo il mobbing o lo stalker e quindi hanno deciso che cominciare comunque Pizzul veramente una bravissima persona una gran persona e ho avuto poi il piacere di vederlo anche allo stadio negli anni successivi quando lavorava alla 7 quindi dieci anni fa più o meno e quindi lavoravamo praticamente io in un tavolino lui in un tavolino di fianco ed è una persona veramente squisita un uomo con la U maiuscola e fa un po' specie vedere oggi tanti professionisti che dopo neanche un anno di telecronica si sentono già arrivati mentre Pizzul ancora oggi cammina terra a terra se gli chiedi le cose ti risponde all'epoca quando era insegnante uguale cioè passava anche mezz'ora a fumare con noi fuori a spiegare no questo si fa così mentre gli altri insegnanti finita l'ora ciao arrivederci quindi chapeau veramente Bruno Pizzul è uno dei miei miti ed è rimasto tale che bello invece c'era un discorso che abbiamo lasciato in sospeso prima quando siccome il tifoso diciamo la Juventus presenta un tifo molto eterogeneo in Italia quindi il derby di Torino è qualcosa a sé stante tu che sei un tifoso juventino di Torino ok ti volevo chiedere appunto come hai vissuto questo derby costante che c'era insomma tutti i giorni nella tua città ma ti dirò io sono come ti dicevo prima sono un tifoso molto blando nel senso non me ne vogliono i tifosi della Juve del Toro però ripeto se io quando ero bambino quando ero ragazzino andavo allo stadio con mio zio anche lì spiegatato Granata roba da bene al collo mi portava in cura a maratona perché mio padre non gliene ha mai fregato niente di andare allo stadio anche se lui era Granata e quindi mio zio andava allo stadio con i suoi figli e mi portava quindi io i primissimi tre o quattro derby della mia vita sette otto anni quando il Toro era ancora il Toro di Aguilera Scuravi insomma gente seria quegli anni lì e vinse anche la Coppa la Coppa Italia andavo allo stadio con il zio quindi e i miei cugini quindi all'inizio ero tifoso Granata mascherato dentro di Granata ma ero il Juventino quindi i primi derby li ho vissuti nella cura a maratona e quello mi ha insegnato comunque a non arrabbiarmi se perdeva la Juve o il Toro mentre a Torino i tifosi Granata che sono di Torino perché la Juventus come dici tu è molto omogenea però i tifosi di Torino sono del Toro e loro proprio soprattutto negli anni d'oro in quegli anni lì e quando ho cominciato a fare il giornalista anni 2000 qualcosa la città per una settimana diventava silenziosa cioè non potevi parlare di calcio quasi andavi al pub con gli amici non si parlava di derby giocavo al fantacalcio con un mio carissimo amico del Toro e in quella settimana lì la formazione o la faceva lui o la facevo io non si metteva né gente del Toro né gente della Juve quindi i tifosi del Toro hanno sempre sentito moltissima questa rivalità i tifosi della Juve un po' meno ma semplicemente perché sono stati più fortunati e tra virgolette non dico abituati a vincere perché anche il Toro ha vinto tanto però i tifosi di ventini e il derby in quegli anni lì era un derby molto sentito ma non così sentito negli anni è andato scemando per i tifosi della Juve ormai non lo sentono praticamente più perché il Toro purtroppo ha vissuto quello che ha vissuto con Cairo eccetera però adesso si comincia di nuovo a sentire perché il Toro sta risalendo ma i tifosi del Toro sono rimasti comunque molto rancorosi se il Toro perde contro la Juve perché quella è la partita non è un derby ma è proprio la partita dell'anno un po' come a Roma piuttosto che a Milano se perdi con la partita c'è un prima e un dopo e quindi i tifosi di ventini al momento non mi sento di dire che la sentono come i tifosi del Toro ma io ho praticamente tutti gli amici del Toro quindi ho passato intere serate a essere insultato buonariamente parlando prendendoci per i fondelli perché spesso e volentieri la Juventus vinceva e quindi magari mi trovavo alle grigliate quegli amici tutti davanti al televisore appena segnava la Juve io andavo perché avevo rischiato di essere vinciato chiaro e invece visto che comunque spesso nei derby diciamo la compresenza territoriale è interessante da un punto di vista anche sociologico se ci pensi perché molte volte appunto diciamo lo scontro all'interno di una città presenta anche delle diverse caratteristiche anche nella gerarchia se vogliamo nelle fasce sociali dal tuo punto di vista ecco questa cosa si è mantenuta oppure anche negli anni diciamo è andata cimando anche questa altra domanda difficile secondo me è andata scemando per il semplice motivo che i diritti televisivi hanno un po' rovinato il giocattolo perché ci sono troppi interessi una volta il pizzo della situazione si metteva davanti al compito dove si allenava Platini o si allenava Pulici o si allenava all'epoca il grande toro e poteva parlare tranquillamente in campo così come ha fatto Galeazzi con Maradona per lo scudetto quello era il giornalismo era molto più bello adesso il fatto che le televisioni locali non possono andare allo stadio perché tanto è tutta esclusiva Sky le fotografie non le puoi fare perché è tutta esclusiva la press da una parte ha aggiunto ma ha tolto tantissimo tant'è vero che i tifosi ormai sono ghettizzati ovviamente i violenti i faccinerosi dovrebbero essere sempre così però i tifosi soprattutto quelli del toro che io conosco che magari sono cresciuti proprio con il papà che lavorava magari in Fiat che era il padrone juventino allora per andare contro il padrone juventino si tifava Toro perché era in Gran Torino all'epoca e adesso è un po' scemata per cui i tifosi del toro quelli veramente che vivevano appunto questo mio amico del fantacalcio per dire una che per una settimana non si poteva parlare di calcio adesso guarda la partita dalla televisione se c'ha voglia oltre al fatto che vabbè come tutti i tifosi del toro non ho capito perché sono arrabbiati con Cairo nonostante abbia salvato il toro nonostante paghi gli stipendi sempre poi che sia braccino corto o no non lo so dire però sì questa cosa qua è un po' scemata mi dispiace perché all'epoca io ho passato tantissimi anni con i tifosi della Juventus per quelli proprio in ritiro parlavi proprio con le curve e c'era gente che viveva di quello perché era bello andare allo stadio adesso tifosi così se ci sono rimangono a casa con la birra in mano magari smadonnando per un gol o per un fuorigioco ma lo stadio vero e proprio bellissima cosa che si è diventato delle famiglie ma dall'altra parte il vero tifo a parte in alcune città tipo Roma sta un po' scomparendo si vive molto di più il tifo vero in casa magari invitando tutta la famiglia del Tor davanti alla televisione o della Juve ma sta un po' scemando i diritti televisivi e tutti questi interessi hanno un po' distrutto il giocato ho capito ho capito il tuo punto di vista invece tornando sempre alla tua di professione una domanda proprio sul tuo approccio a livello di public speaking ci vuole un certo livello di autostima tu come hai trovato il modo per essere insomma per avere l'autostima di condurre una telecronaca ed essere comunque fluido nel parlare in pubblico ma come ti dicevo prima è una sorta di dote naturale nel senso che io non ho mai passato come mi è successo anche di fare dei corsi per radio speaker di Roma con dei ragazzi di vent'anni appena appena diplomati o quasi laureandi che mi sono perso il discorso la domanda è ci vuole un certo livello di autostima quando si conduce una telecronaca e soprattutto affronti i public speaking esatto dicevo che è un dono naturale non ho mai passato appunto come dicevo i ragazzi di vent'anni che passano magari davanti alla televisione mio nipote spegne l'audio e fa la diretta per la contentezza di mio cognato che non vede una partita come si deve non ho mai fatto quel giochino lì e ho scoperto di essere avere questa rotta naturale quando mi sono trovato a dover fare qualcosa in diretta con RTL piuttosto che giocare a registrare una telecronaca per R7 Pimonte tagli a 7 gold senza essere assunto magari per fare provini e ho scoperto di essere bravo di essere capace perché vedevo anche dall'altra parte che mi dicevano ma a me è pensato di fare il telecronista in realtà no e quindi mi hanno chiesto di farlo e per quanto riguarda l'autostima credo che in un mondo in cui bisogna sgom... adesso in tutti i lavori bisogna sgomitare ma in particolar modo in questi dove ci sono tante persone per pochi posti con tanti soldi e devi sgomitare mordere a zoppare le persone se non ci nasci è difficile essere così stronzi però l'autostima ti aiuta a non abbatterti mai perché tantissime volte e anche se dovessi mai sentire Fabrizio Ferrero un giorno te lo può confermare tante volte chiamai Fabrizio Ferrero dicendo Fabri ma qua non gira non ti preoccupare vai così fai cosà e a forza di resistere ancora oggi è così alcune collaborazioni mi cascano addosso diciamo come è successo tra di noi per caso altre che magari ho cercato pesantemente non mi hanno mai calcolato per cui l'autostima è importante ma in tutti gli ambiti della vita nel momento in cui ti dicono non so non sei bravo non sei all'altezza eccetera continua Edenvale è valso anche per il discorso del calcio che all'epoca mi chiamò il Toro alla Juve mio padre mi diceva no andare tanto non ti prenderanno mai vabbè io vado poi se non mi prendono te lo faccio sapere e quindi così dote naturale poi a forza di essere cresciuto dai sei anni in poi da quando mi ricordo con tennis basket calcio mio padre era uno sportofilo allucinante infatti su questo anch'io lì ho giocato a biliardo per gioco ho giocato a bullying per gioco facevo tutto quindi dal punto di vista sportivo sono stato fortunato ad avere questa fluidità che poi il problema di chi fa questo mestiere è che il giorno in cui ti rendi conto che non è più un gioco ma è un lavoro e che magari Real Madrid e Juventus ti stanno ascoltando 5 milioni di persone magari non tutte ascoltavano me 3.500 piccinini 1.500 io cioè 1.500 io però lì devi essere bravo a reggere il colpo perché tante persone sono andate in difficoltà io stesso sono andate in difficoltà con attacchi di ansia con pensieri di ah cavolo 1.500 persone mi stanno ascoltando lì devi avere un po' devi essere pronto a patire il colpo e tanti colleghi sono andati in difficoltà chi ha resistito magari ha perso i capelli mi viene in mente Gianni Balzarini ma perché è un amico quindi lo saluto molto volentieri però è veramente complicato gestire la pressione quando poi magari esce la prima volta allo stadio c'è il bambino che ti chiede l'autografo ti giri come per dire stai parlando con me e quello è stato forse la cosa più difficile da superare però anche lì l'autostima ti aiuta a dire vabbè se l'hai fatto fino ad oggi ti sei divertito continua a farlo non pensare vai avanti certo questo è un bel messaggio ma invece parlando di tuo padre che dicevi che è uno sportofilo a tutto tonno nel senso che l'hai insegnato un po' insomma non soltanto a livello calcistico i rudimenti però di tanti sport ti chiedevo a livello competitivo ti ha dato qualche insegnamento su come gestire anche la competitività con i tuoi competiti insomma con i tuoi colleghi sì ovvio sicuramente sì mio padre è sempre stato un competitivo su tutto infatti giocava a tennis giocava a calcio anche in azienda lui ha lavorato per la Comau all'inizio che era una un'azienda molto vicina alla Fiat e nel giro di pochi anni anche lui è schizzato verso l'alto e anche lui ha dovuto sbomitare è diventato poi direttore generale della Schneider che è stata poi aveva assorbito la sua ex azienda e quindi non me l'ha mai detto proprio diretto però nella vita si sentiva che era un competitivo e di conseguenza io sono diventato un competitivo ma lo è anche mia sorella lo è anche mia mamma per cui voglio dire la famiglia sotto traccia non ci ha messo gli annunci che sono scritto diventa competitivo ma alla fine perdere abiglie all'epoca quando ero ragazzino mi dava fastidio anche se giocavo con i miei amici adesso ovviamente crescendo capisci che non è più così però la competitività sì sicuramente me l'hanno insegnata così in maniera silenziosa capito quindi in maniera un po' anche latente c'è certi insegnamenti sì sì e invece poi scoperti da grande cioè sei riuscito poi a verbalizzare il tutto poi da grande esatto cercando di capire cosa funzionava nella vita come chiunque di noi ogni totti di anni fa mi sono reso conto che l'aggressività positiva in tutto quello che faccio devo scalare per forza la montagna anche se mi dicono tutti che è ripida e non ce la fare mai io ti dimostro che ci arrivo e quindi quello sicuramente devo dire grazie ai miei genitori e il tempo stesso però ecco diciamo la competizione positiva è sempre utile in tutti gli sport in tutti i settori della vita e la capacità di reinventarsi invece quando come si fa ecco fare come si fa anche lì o ce l'hai o non ce l'hai nel senso che se sei un animale pensante che ti si differenzia dalle scimmie cerchi di sopravvivere in tutte in tutte le situazioni devi reinventarti una stupidaggine oggi nel 2022 ho due patentini per il drone a 45 anni mai più pensavo che di fare questa esperienza però ho capito che poteva esserci una possibilità da quelle parti mi piace poi io la tecnologia sono appassionatissimo anche lì sin da ragazzino tra tutte le tecnologie che mi sono cresciute attorno però è una cosa che mi piace proprio proprio fare e come hai iniziato ecco questa attività con i drone per esempio beh con i drone credo che il sogno di tutti gli uomini gli esseri umani è quello di volare e l'idea di poter volare anche solo con un visore o senza visore perché hai il telefonino e guardi il monitor è una figata pazzesca ti senti una sensazione di libertà anche se non sei tu a volare ma vedi le immagini dallo schermo e magari sei a 600 metri di altezza su un monte e riesci a beccare dei filmati particolarissimi che l'essere umano a meno che non si fa una camminata di due o tre giorni non ci arriva mi sono subito divertito poi esplosa la DJI con i primi droni professionali quelli sotto i 250 grammi per uso ludico quelli sopra che invece deve avere il patentino ho detto io comincio a prendermi il patentino perché voglio divertirmi nel momento in cui vado in giro magari a fare danni a sfondare le vetrine delle persone ho il patentino con un'assicurazione quindi posso divertirmi piano piano che siamo andati avanti poi è diventato spero che diventi anche una seconda branchia della mia vita e sapersi reinventare è proprio quello cioè cercare di non fermarti non sedersi mai nel senso che io ho fatto sono passato da essere telecronista ho avuto un negozio di caffè dal 2015 al 2018 perché all'epoca c'erano le compatibili ero convinto che quello fosse un business da fare poi è arrivato il drone poi la col diretti mai fermarsi ancora oggi a 45 anni non mi voglio fermare dove sono quindi reinventarsi è fondamentale non lasciarsi abbattere sono le due cose che vanno a braccetto perché se ti lasci abbattere non ti reinventi se ti trovi invece in mezzo a una strada tra virgolette di punto in bianco da essere telecronista ti trovi a dover fare tutt'altro hai due possibilità o impazzisci o cerchi altro e quindi credo che avere appunto autostima aiuti in questo senso certo e per te comunque ho visto che è anche consideri anche il futuro questo aspetto dei droni vedi molte applicazioni sì adesso credo proprio di sì adesso comincia a essere normale vedere i droni magari volare per la città non ancora come nei film di fantascienza però non so vai in giro in Valle Argentera in Val di Susa e conosci dieci o quindici ragazzi che volano col drone che hanno costruito vai che ne so i vecchi colleghi della televisione vedi che fanno le riprese per lo stadio con il drone e adesso qua a Torino nel 2024 all'Oval dove c'era la Fiat hanno un progetto hanno finanziato un progetto da 50 milioni di euro se non sbaglio con il Politec con la Camera di Commercio dove costruiranno i piloti del futuro qua a Torino ci saranno anche di corso universitari e dal 2024 in teoria dall'Oval partiranno i primi taxi drone e quindi credo proprio che sia il futuro io spero di far parte di questo futuro non dovesse essere così mi divertirò a fare magari le riprese con gli amici piuttosto che altri colleghi che mi chiedono il favore di andare a filmare una gara di motocross e poi avere filmato per la società sportiva va bene così però il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a lavorare con i droni perché è una roba futuristica mai più avrei pensato quando avevo 15 anni 20 anni che il mondo si sarebbe trasformato in questa maniera addirittura ad avere un drone da pilotare riuscire a mandarlo a un chilometro e mezzo dove praticamente lo vedi piccolo così ma tu hai il visore e sei su praticamente sopra le api più o meno quello è il senso va bene grazie Andrea grazie a te